Negli ultimi giorni Gaia Bianchi sembrerebbe essere molto giù di morale Lo provo infatti in una diretta realizzata da lei durante una mattina di queste In cui è scoppiata a piangere parlando della relazione con Rondo e dei suoi traguardi raggiunti sui social Visto che di recente ha appunto toccato i milioni di follower In questa live, seppur in maniera molto velata, ha spiegato appunto cosa è successo con Rondo E i motivi della loro rottura Fra l'altro gira anche voce che Rondo la pietra dita con un'altra ragazza Ma non c'è nulla di certo e sono soltanto dei serie che si trovano su TikTok Quindi prendetele con le pinze perché non è nulla confermato Vi lascio quindi filmati, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio Avrei preferito che tipo magari le cose nassero diversamente Ma in amicizia o anche in amore Però arrivo a casa Ed è dura raga stare a casa In questo periodo Perché sto tanto male Arrivo a casa E so che per distrarmi Guardo Magari rispondo a qualcuno di voi Comunque c'è tanta gente Capito? Che mi aiuta A distrarmi se anche voi non lo sapete Capito? Quando rispondo Metto like i post Vi guardo le storie Per distrare la mia mente Però Questa è una cosa che mi fa stare tanto bene Sono così felice raga Questa è una cosa che mi fa stare tanto bene Questa è una cosa che mi fa stare tanto bene